16 giugno inaugura l'undicesima fiera agricola del Santerno nel complesso di Sante Zennaro a Imola, un'occasione come ha detto il sindaco di tenere accesi i fari sul comparto agricolo, zootecnia, agricoltura, macchine agricole e tanta enogastronomia con i buoni prodotti del territorio. Bellissima fiera che mette al centro l'agricoltura, è un settore strategico che non possiamo delegare ad altri, un grande patrimonio economico, sociale, in Emilia Romagna vale 5 miliardi ma il cibo trasformato supera i 20, 8 miliardi di prodotti agroalimentari esportati, quindi davvero una filiera strategica. Per il presente e per il futuro abbiamo oltre 50 mila imprese agricole e centinaia di migliaia di operatori. Naturalmente stiamo attraversando momenti molto difficili segnati dalle alluvioni delle settimane scorse, dalle franne, dal dissesto ma anche dalle gelate tardive che hanno distrutto intere produzioni ma ci riprenderemo e ripartiremo. Abbiamo però bisogno di fare un grande sforzo tutti insieme, Regione e anche Governo, per risarcire e ricostruire al 100% e fare ripartire l'Emilia Romagna che è il cuore agroalimentare del Paese. La fiera è importantissima perché non è solo un'occasione nella quale si espongono dei prodotti, si incontra domande e offerta, è un'occasione di incontro, di relazione umana e vera tra le persone. Le fiere rafforzano il valore della comunità, dello stare insieme ed è se siamo una comunità siamo anche più capaci di condividere le gioie ma di affrontare le difficoltà. Quindi la fiera è un momento di festa, un momento dove le relazioni umane vengono davvero fortificate e quindi molto importante essere ripartiti dopo una stagione difficile come quella che abbiamo alle spalle, segnati dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina, da tanti problemi, però le fiere sono un momento di speranza. La fiera agricola è un'occasione anche per più generazioni di abbracciare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio ma anche come i prodotti che vengono allevati con fatica, con sudore, dalle nostre terre poi si sviluppano in quelle che sono le nostre case. Quindi è un'occasione importante per vivere a pieno quello che è il nostro territorio e viverlo in uno dei fondamentali che è quello dell'agricoltura. Quindi fare la fiera agricola significa anche conoscere, informarsi e soprattutto vedere l'innovazione dal punto di vista dell'agricoltura anche per quanto riguarda la parte convenistica che abbiamo voluto realizzare all'interno, dal riperimento dell'acqua alle nuove tecnologie come l'agrifotovoltaico e tanto altro. Quindi è un'occasione di confronto e soprattutto anche di incontro e di socialità. Abbiamo scelto insieme all'associazione agricoli, insieme agli agricoltori di fare questa undicesima edizione e dedicarla anche al tema dell'agricoltura e anche alle difficoltà che ci sono oggi giorno. Quindi un'edizione speciale, oltre 60.000 metri aperti, diciamo pieni di attività, di occasioni anche per conoscere quello che sono le eccellenze del nostro territorio, degli animali, agli strumenti ma anche alle eccellenze culinarie e gastronomiche. E poi 4.000 metri coperti e ad esempio qui siamo nella mostra che rappresenta anche una novità e che è quello che è il racconto di questi mesi molto duri che hanno colpito anche in alcune occasioni due volte dal punto di vista dell'alluvione. Una mostra fotografica che ritrae diversi momenti di grossa difficoltà del territorio, foto anche scattate dall'alto, in particolare alcune le ha scattate proprio lei dall'elicottero, è stato uno dei primi quindi a vedere questa situazione nel suo complesso, che cosa ha provato? Sicuramente quando si vedono queste immagini, le immagini parlano il vuoto, il silenzio, anche la paura e le difficoltà che ovviamente ogni persona hanno quando il fango e poi l'acqua si ritira perché poi tutto è perso e tutto è da ricostruire, quindi ovviamente sono immagini che fanno creare ancora emozioni, ovviamente sono immagini dure, di un territorio duramente colpito non solo su quello di Imola ma penso anche quello di Corselici o quelli confinanti vicini quindi è sicuramente stata un'occasione difficile che vediamo anche a nostre spalle, insomma fa vedere quanto nella fatica del fango e della ricostruzione c'è ancora tanto da fare. Prima durante il suo discorso all'inaugurazione della Fiera Agricola del Santerno c'erano dietro alle sue spalle i rappresentanti dell'associazione di categorie, ecco si è confrontato con loro, quante sono le aziende che forse avranno difficoltà a riaprire? Dal confronto emerge che in Emilia Romagna sono oltre 6.000 le imprese colpite, sul nostro territorio sono molte, quelle nei territori di San Prospero, di San Samorelli, di San Stimolese e soprattutto di Spazzate Sestelli, sono imprese che a volte vanno avanti da più generazioni a tante generazioni e devono ricostruire non solo quello che è la parte agricola ma anche la parte di magazzino, di spazi, di ricovero attrezzi eccetera, quindi è una difficoltà nella difficoltà, ci siamo confrontati con l'assessore Mami, abbiamo condiviso le misure che la regione ha messo in campo che sono già misure importanti perché parliamo di primi aiuti diretti proprio alle imprese agricole, la stessa cosa abbiamo fatto anche noi nel nostro piccolo triplicando le risorse legate agri-fidi per ridurre gli interessi e quindi portarli sostanzialmente a zero, ecco anche da questa parte. Assessore Raffini, undicesima edizione della Fiera Agricola del Santerno. Sì, undicesima edizione che siamo stati un po' incerti fino all'ultimo, poi abbiamo fatto un tavolo con tutte le associazioni di categoria del mondo agricolo e abbiamo deciso di farla nonostante ci siano stati noti problemi per quanto riguarda l'alluvione e le frane in vallata, però abbiamo proprio voluto farla per dare un segnale di resilienza e di resistenza di un settore, di un comparto molto importante per il nostro circondario sicuramente ma per l'Italia, per noi più del 20% del PIL e ce lo hanno chiesto anche i produttori stessi, quindi siamo contenti di poter accogliere in questa vetrina, noi pensiamo almeno 50.000 persone come anno scorso dove tutti i produttori possono vendere i prodotti ma è anche un momento di confronto, un momento anche di riflessione per la situazione difficile del comparto agricolo ma è anche un momento, sicuramente una festa per tutte le famiglie che possono venire qui, i bambini hanno delle esperienze sensoriali che non trovano da nessun'altra parte, questa d'altronde è una fiera unica, penso in Emilia Romagna dove ci sono odori, sapori, si toccano tutti i sensi insomma, quindi io dico è una festa di popolo e delle famiglie. Lei prima ha detto abbiamo organizzato questa fiera dopo un confronto con le associazioni agricole, non era facile farla, abbiamo deciso di farla, ma non solo l'avete fatta, avete anche introdotto le novità, per esempio c'è una gara all'alba e poi abbiamo appena visitato una mostra fotografica che negli anni scorsi non c'era. Sì, diamo sempre qualche elemento di novità, quest'anno invito tutti, se sono mattinieri, dalle 6 alle 7 a vedere la gara del Canto del Gallo con i bomboloni, che è una cosa abbastanza atipica ma comunque anche interessante, poi come ho detto sono momenti, abbiamo voluto in questi tre giorni fare anche momenti di riflessione, quindi abbiamo fatto una mostra significativa con il circolo fotografico imolese di quello che ha significato il danno legato all'alluvione e agli smottamenti in vallata, perché naturalmente non bisogna dimenticare, non bisogna lasciare solo le famiglie e anche un settore come l'agricoltura. Presente a questa serata di inaugurazione della Fiera Agricola del Santerno, anche l'inno Bacchilega, direttore della Capter di Piangipane, l'azienda che ha permesso di evitare l'allargamento di Ravenna grazie al sacrificio dei suoi terreni. Sì, abbiamo contribuito a far sì che l'acqua non entrasse in Ravenna, questo è stato fondamentale alla fine di tutta una serie di operazioni fatte dal Consorzio di Bonifica e da tutti gli operatori del Comune di Ravenna perché l'acqua stava crescendo e per evitare l'ingresso è stato chiesto di tagliare l'argine del canale che portava l'acqua all'idrovoro, che era in sofferenza perché l'acqua cresceva ma non riusciva a calare, anche se l'idrovoro oltre al potenziamento di pompe lì, che pompavano circa 24.000 litri al secondo, come ha detto il direttore Cicchetti del Consorzio di Bonifica, rischiava comunque di non riuscire a salvare tutto quanto. Avete ricevuto i ringraziamenti dei Ravennati? Sì, abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti dei Ravennati e non solo, anche fuori Ravenna. Sinceramente non ce l'aspettavamo perché lì per lì è stata una decisione fredda, poi è vero che maturando col tempo e pensando lì ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto caspita ma qui ci mancano circa 500.000 euro, ci mancheranno più il resto perché quelli sono 200 etri ma in totale sono andati 650 e quindi quello è diventato un problema, però siamo in ginocchio, cercheremo di rialzarci come tutti gli altri e confidiamo nel governo del 100% dei rimborsi a tutti, io dico a tutti perché non deve essere assiato indietro nessuno perché sono agricoltori che sono andati in sott'acqua con tutti i terreni, noi solo con una parte, quindi lì è ancora peggio e aziende e case, le case familiari sono secondo me devastanti.